Allora, stavo ovviamente qui a fare colazione quando decisi di camminare per la cucina e girando la visuale vedi quel mostro, questa bestia schifosissima, chiamata mille piedi nel mio lavandino. Il problema è che non posso stare qui a controllarmi, queste bestie mi fanno veramente schifo, mi fai schifo. Non posso stare qui a controllarlo tutto il giorno perché sono sicura che se mi siedo due secondi questo qua si muove e arrivederci. D'altra parte ho schifo a toccarti, come faccio a toccare una bestia del genere e ammazzarla? Come faccio? Con che coraggio ti ammazzo? Fai schifo, sei minuscolo ma fai schifo. Provo. Allora, auguratemi buona fortuna e se non ci vediamo è perché mi è venuto un infarto. Ma non lo l'hai neanche preso! No, 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 ok, ok, allora prendo, prendo un'altra arma. Ho sentito crack! Vivo, è vivo, è vivo, è vivo, sta camminando, è vivo! È morto! Ho sentito! Vivo. Vivo.